Facoltà extrasensoriali. Come avvengono le facoltà extrasensoriali come la veggenza? Commento. Queste facoltà sono evasive e spontanee e non sono controllate dai cinque sensi del corpo fisico. Arrivano naturalmente. In alcuni momenti il veggente riesce a vedere e in altri non riesce, anche se forza le sue facoltà. Come un artista il veggente ha bisogno dell'ispirazione per la sua percezione extrasensoriale.